buongiorno dagli erovati vi ringrazio di aver dato fiducia al nostro corso easy rhino online e per questo mi sento in dovere di essere sempre vicino a voi di darvi sempre delle risposte nell'inter possibile ovviamente e anche di realizzare dei video bonus dei video extra questo per darvi sempre più valore aggiunto e la possibilità di migliorare sempre di più con questo veramente magnifico software che veramente bellissimo secondo me ok detto questo entriamo subito nel vivo di questo nuovo video dove voglio andare a un pochino sviscerare un comando un comando abbastanza semplice in realtà che troviamo qui in questo pannello qui nel pannello diciamo delle superfici ok quindi togliamo tiriamo fuori il pannello superfici e voglio andare a prendere in considerazione questo comando qui che è la rivoluzione la rivoluzione è abbastanza semplice e capibile intuibile da utilizzare l'abbiamo già probabilmente vista anzi quasi sicuramente vista all'interno del nostro corso easy rhino ok però vediamo un'altra funzione del della rivoluzione allora quello che abbiamo visto noi è questo allora prima di tutto in descrizione poi vi lascio in basso da scaricare l'immagine che sto utilizzando anch'io in questo momento qui ok che è questa allora quindi clicchiamo su il quadro immagine andiamo a prenderci l'immagine che ci interessa che è vaso bianco che questo facciamo un bel open e andiamo a la facciamo grande magari come tutto il nostro la nostra area diciamo millimetrata ok quindi non è grande così quindi faccio scala 2d e mi aggancio da qua mi aggancio qui e vado a eccolo qua perfetto una volta fatto questo ovviamente io sto dicendo sto facendo tutto questo in in rhino rhino 5 ok chi ha rhino 6 può farlo comunque in modo uguale nel senso che ha più o meno le stesse funzionalità ok una volta che io lo seleziono e vado nelle proprietà del mio oggetto del mio materiale ok io sempre la possibilità di andare a lavorare sulla trasparenza quindi sulla trasparenza vado abbassare la trasparenza tantissimo ok e poi voglio portare la base del mio vaso qui proprio questa qui centrale allo zero delle coordinate facendo questo allora prima di tutto ci avviciniamo alla base del mio del mio vaso vado a prendermi uno sposta mi aggancio perfettamente a metà in questo modo qua col sinistro del mouse ok poi zero la tastiera invio facendo così vedete che io ho portato allo zero delle coordinate la base del mio del mio vaso una volta fatto questo andiamo a inserire il vaso facciamo un esempio qui mettiamo foto ok destro il mouse cambio oggetti di livello e blocchiamo il livello di uno che questo è bloccato e non ci disturba più e andremo a lavorare con il livello di uno quindi gli altri livelli tre livelli poi andiamo a cancellare elimina 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 perfetto facciamo doppio clic sul livello nel quale vogliamo lavorare invece di rosso qui lo mettiamo che ne so io ho anche un grigio scuro va bene ok perfetto e iniziamo a fare un'altra cosa cosa e prendiamo la pollinea vedete che si forma un puntino zero invio dalle coordinate vedete mi blocco sulle corde del zero delle coordinate e vado su in alto qua ok perfetto e ho la mia la mia linea perfettamente verticale e poi da qui parto parto con la curva per punti controllo mi aggancio e inizio e vado fuori ovviamente in modo perfettamente dritto e poi in questo modo qua ecco l'unica cosa che questo dovrebbe andare a collimare con quell'altro la cosa facciamo sblocchiamo un attimino selezioniamo la nostra immagine ok e la portiamo verso il basso portiamo verso il basso così allora facciamo una cosa questo la curva la selezioniamo dato che deve arrivare fino qua attiviamo i punti di controllo ok la foto la riblocchiamo selezioniamo i punti di controllo e andiamo a trasportare eccolo qua in questo modo qui perfetto esc da tastiera e poi ripartiamo da qua agganciandoci sempre con la curva per punto di controllo e andiamo su anzi io farei essendo una curva che deve essere una curva abbastanza pulita io andrei a utilizzare a utilizzare gli archi quindi mi aggancio con un arco vado più o meno a questa distanza ecco vedete che riesco a fare diciamo una curva molto netta molto pulita anche qui facciamo la stessa identica cosa attenzione qua dobbiamo andare perfettamente in tangenza e qui non siamo in tangenza perfetta vedete che non siamo in tangenza perfetto quindi poi qui andiamo a pulire allora per pulire questo facciamolo subito con il raccordo fillet curve ok allora rifacciamo invece il raggio 1 facciamo raggio 10 più o meno più o meno può andare bene ok e poi da qui ripartiamo sempre con la curva per punto di controllo dobbiamo andare in tangenza e poi andare a fare la nostra curva e poi qui ecco qui che non mi piace allora ecco questo mi piace perché dovrebbe essere molto più come si dice molto più morbido allora io farei una cosa prendo una polilinea vado a tagliare in questo modo qua seleziono tutto prendo il tronca tronco la parte che non mi piace questo lo possiamo andare a eliminare e poi prendiamo prendiamo questo questo comando qui dove ci sono strumenti curve prendiamo raccordo blend arco clicchiamo la prima e la seconda e vedete che in automatico lui mi fa il raccordo perfetto quindi così così mi piace una volta fatto questo facciamo un unisci quindi 12345 ecco qui c'è attenzione che qui c'è un raccordo intermedio che questo è questo perfetto e poi questo invio ok e abbiamo un unico un'unica linea per linea perfetta ecco fatto questo allora la linea centrale non mi serve più la posso anche andare a cancellarsi se voglio posso andare a fare la rivoluzione quindi sinistro mouse seleziono la curva da un invio mi aggancio qua mi aggancio sopra e poi facciamo invio invio due volte andiamo in prospettica ok e andiamo a vedere il nostro vaso quindi andiamo sull'ombreggiata e andiamo a vedere il nostro vaso eccolo qua ok l'unica cosa che c'è un problema vedete che è chiuso quindi abbiamo sbagliato un qualcosa quindi ritorniamo nella vista frontale e qui dobbiamo fare un offset offset invio ovviamente così è troppo quindi siamo 35 è troppo facciamo 10 invio e ancora troppo magari facciamo 6 invio così potrebbe andare anche bene e facciamo il nostro offset eccolo qua perfetto l'unica cosa che qui anche qui dobbiamo andare a smussare per smussare sempre qui il raccordo fillet curve quindi facciamo 3 invio 1 2 perfetto 3 può andare bene ok il resto va benissimo quindi allora per per far l'interno cavo vuoto qui va lasciato libero cioè non bisogna chiudere qui dobbiamo andare ad aprire ad aprire ok quindi possiamo fare una cosa questo selezioniamo lo esplodiamo ok poi selezioniamo questo selezioniamo questo lo eliminiamo e questo qua dovrà essere allora se io vado qui nel gruppo di controllo mi aggancio io devo andare su in questo modo qui ecco vediamo ecco tipo così perfetto poi dobbiamo andare a cancellare quello quindi eliminare quello selezioniamo selezioniamo tutto invio prendiamo il tronca e andiamo troncare questa parte qua perfetto e questa parte qui dobbiamo andare a smussarla quindi anzi io farei di nuovo un'altra cosa dovrei prendere la pollina mi farei un taglio perfetto in questo modo qua seleziono tutto sempre tronca e vado troncare la parte che non mi interessa questo lo eliminiamo e poi di nuovo di nuovo qui facciamo un raccordo blend arco 1 e 1 2 invio e poi facciamo che andiamo a fare un unisci di tutto ok e di nuovo una rivoluzione seleziono invio mi aggancio vado su verso l'alto e invio perfetto ok andiamo in prospettica eccolo qua eliminiamo l'immagine dalla foto ecco vedete che io ho realizzato il mio il mio vaso perfettamente perfettamente vuoto all'interno e questo per quanto riguarda per quanto riguarda la rivoluzione classica adesso andremo a vedere invece la rivoluzione fatta su binario siccome la rivoluzione non riesce a farmela dobbiamo andare ad aprirlo cioè la parte interna non possiamo farlo lo buchiamo dopo ok quindi andiamo a chiudere il tutto in questo modo qua perfetto e questo punto di controllo facciamo una cosa lo abbassiamo qua ok e andiamo a di nuovo unire unire il nostro profilo che dovrà essere un profilo un profilo semplice in questo modo qua ok ok allora il concetto questo qui vediamo andiamo a mettere a posto queste queste linee le cancelliamo e teniamo solo quello allora il concetto quello che dobbiamo avere un binario dobbiamo avere un profilo e dobbiamo avere diciamo questa linea centrale al nostro binario ok perfettamente alta come il nostro profilo e poi allora funziona a destra del mouse profilo profilo binario e poi partiamo inizio inizio a essere rivoluzione fine a essere rivoluzione e vedete che lui mi crea mi crea la mia rivoluzione su binario l'unica cosa che poi io dovrò andare a chiudere sotto ok dovremo andare a chiudere sotto teoricamente l'abbiamo chiuso però non lo so unisci 1 2 invio ok ecco l'abbiamo chiuso abbiamo litigato un pochino a volte purtroppo ci sono delle cose che non si riescono a capire di rhino almeno io non riesco a capirle ma poi alla fine riusciamo a trovare il metodo per per riuscire a raggiungere il nostro risultato comunque ecco questo è il concetto appunto di rivoluzione su binario ok spero che questo video sia stato interessante per voi e ci vediamo in prossimi video e benvenuti ancora nel corso italiano ciao a tutti